ciao a tutte rieccomi di nuovo in diretta spero che questa volta non ci siano problemi di connessione allora ripartiamo dall'inizio scusate per prima allora vi rispiego tutto quello che volevo farvi vedere oggi oggi volevo farvi vedere come si fa il cappello della della strega quindi potete realizzarlo utilizzando dei fogli di origami oppure dei fogli di carta e quindi farli un po più grandi l'altra cosa che vi volevo far vedere è come realizzare un pipistrello segnalibro e poi se non mi dimentico i passaggi come prima volevo farvi vedere come realizzare anche il fantasma e scusatemi ancora ma purtroppo ho avuto problemi e ho colto l'occasione per cambiare anche la modalità invece di utilizzare il computer che dove appunto come vi dicevo prima non mi vedo ho preferito usare il telefono detto questo riprendiamo tutto dall'inizio quindi per chi si è collegato adesso ripeto realizzeremo i cappelli da strega il pipistrello segnalibro e se mi ricordo i passaggi il fantasmino in realtà anche il fantasmino è semplicissimo ma c'è un passaggio chiave che io tutte le volte portate pazienza ma mi dimentico allora andiamo a vedere come fare il nostro cappello da strega ve lo faccio rivedere così se vi siete dimenticate potete prendere nota allora come vi dicevo all'inizio si può utilizzare per crearlo o un foglio da origami che li vendono proprio apposta questi pacchettini di fogli da origami che sono colorati e li trovate in due versioni o come questo che sono dello stesso colore fronte e retro oppure come questi che sono invece di colori diversi quindi davanti sono colorati e dietro sono bianchi per fare il cappello da strega potete utilizzare quello che volete perché tanto nelle pieghe si vede solo la parte colorata allora ripartiamo quindi prendiamo il nostro foglio che deve essere quadrato lo giriamo così e iniziamo a piegarlo in questo modo ovviamente dovete riuscire il più possibile a centrarlo ok una volta quindi piegata questa parte in questo modo questa parte in questo modo prendiamo il finale e lo giriamo così poi apriamo le nostre alette inseriamo questa parte e lo ripieghiamo su se stesso così ora il cappello come potete già vedere dalla forma è quasi finito non ci resta che piegare la parte sotto tre volte più o meno tenendo un centimetro per la piega ecco qua vedete che il cappellino della strega ha già preso forma io lo chiudo utilizzando un pezzettino di nastro adesivo così sono sicura che poi non non si riapre ecco qua e come vi ho fatto vedere prima vado a decorarlo per decorarlo utilizzo un pezzo di cartoncino nero che vedete non so per cos'altro l'ho usato comunque chiaramente usato e riciclato vado a fare una striscia nera che con la colla stick incollerò in questa posizione così non preoccupatevi se è più più larga perché tanto con le forbici poi la sistemiamo e la aggiustiamo ok una volta fatto questo passaggio non vi resta che decorare come più vi piace il cappello della strega potete utilizzare come fatto qui un semplice pennarello oppure come fatto di qua delle stelline visto che ancora quale stelline causato prima semplicemente ne prendo qualcuna metto un po di colla stick e poi posiziono le mie stelline forse se si fanno prendere allora una due tre quattro cinque e sei ecco qua questa è avanzata quindi come potete vedere in pochi minuti è pronto il nostro cappello da strega come vi facevo vedere all'inizio potete usare o i fogli da origami oppure i fogli a quattro quindi ho creato un quadrato con un foglio a quattro e come vedete è venuto fuori un cappello da strega molto più grande potete farlo anche grandissimo dipende dal tipo di decorazione che state creando è il motivo per cui lo volete utilizzare quindi questo è il nostro primo rigami vi faccio vedere il secondo rigami questa volta parto direttamente con il segnalibro quindi spostiamo i nostri cappellini e andiamo a vedere come si fa il segnalibro a forma di pipistrello come vedete io l'ho utilizzato qua così colgo l'occasione per farvi vedere il mio libro la magiscienza con 20 esperimenti da fare con i bambini che trovate in vendita su amazon allora scegliamo il colore del pipistrello pipistrello di solito è nero vediamo se abbiamo un altro foglio nero eccolo qua non so se marrone o nero sì sembrerebbe nero allora anche questo è facilissimo da realizzare e per fare il pipistrello segnalibro vi serve un foglio quadrato questo come potete vedere a differenza dell'altro è nero da una parte e bianco dall'altra allora iniziamo si mette in questo modo si piega così si piega bene bene la carta da origami è molto più leggera della carta normale per quello che si riescono a fare bene tutte le pieghe poi si piega all'insù la prima letta e all'insù anche la seconda ok una volta fatto questo passaggio quindi ripeto abbiamo piegato abbiamo prima piegato a metà il quadrato poi abbiamo piegato in su una letta poi abbiamo piegato in sull'altra letta si piega questa in questo modo queste io la piego così perché la metto dentro di qua e la stessa cosa lo stesso procedimento farò con l'altra letta come potete vedere già così potrebbe essere completo il nostro segnalibro ma se volete potete anche girare come ho fatto io l'altra letta in modo da crearlo così se come a me non avendo eseguito le pieghe a regola d'arte vi dovesse restare un pezzettino bianco guardate niente paura con il pennarello lo coloriamo ok ora non ci resta che decorare il nostro pipistrello quindi vado a prendere un pezzo di carta che mi ha avanzato prima per l'esattezza quando non mi è venuto il fantasma ecco qua faccio gli occhi e li incollo quindi il primo occhio secondo occhio e vado a creare i dentini del pipistrello cerchiamo di farli più o meno uguali allora sempre con la carta la carta semplice con degli scarti ho creato i dentini che andrò a posizionare qua 1 e 2 ok coloro gli occhi quindi col pennarello oppure potete usare anche un altro cerchietto nero sempre di cartone come come volete ok e ora non mi resta che realizzare le ali le ali le potete fare con la carta nera oppure anche di un altro colore se volete fare un avere un effetto un po diverso oppure con il cartoncino io utilizzo il cartoncino per il semplice fatto che come vi dicevo prima lo sto riciclando questo pezzo di carta nera e quindi continuo ad usare quello per cui farò due ali ritaglio prima il cartoncino ne facciamo così forse sono grandi ok ne metto uno sopra l'altro in modo da dargli più o meno la stessa forma dopo vabbè se volete forme precise ovviamente dovete utilizzare un righello io adesso lo sto facendo molto velocemente per non farvi perdere troppo tempo ecco qua quindi darò la forma delle ali al mio cartoncino ecco forse sarebbe stato meglio avere una forbice di quelle curve ma vabbè anche questa alla fine fa il suo dovere ecco qua le nostre ali che andrò ad incollare sul retro come vedete anche questo è proprio semplicissimo da fare allora uno e la seconda ala e due ecco qua e non preoccupatevi per quanto riguarda il video se ve lo perdete potete comunque rivederlo sulla mia pagina che dopo viene pubblicato in automatico una volta che ho finito per chi si è collegato adesso ricapitoliamo velocemente cosa stiamo facendo stiamo sviluppando tre idee di origami per halloween quindi il cappello da strega il segnalibro a forma di pipistrello e se viene il fantasmino fantasmino semplicissimo da fare però se vi dimenticate un passaggio è finita allora rimettiamo a posto quello che abbiamo fatto fino adesso e riproviamo a fare il fantasmino allora per fare il fantasmino vi serve semplicemente un foglio bianco a 4 se non vi piace halloween è inutile che mettete le parolacce perché sinceramente a me piace moltissimo e quindi continuerò a proporvi un sacco di lavoretti se non vi piace liberissimi di non farli ma se vi piace continuate a seguirmi perché ne pubblicherò ancora tantissimissimi ecco qua allora abbiamo piegato il foglio in questo modo perché abbiamo realizzato un quadrato con il pezzo che avanza potete utilizzare tanti occhi potete utilizzare tante tante cose se potete creare altro per cui non buttate mai via i pezzettini di carta allora con il nostro quadrato che abbiamo visto è già piegato in questo modo ok lo pieghiamo anche nel verso contrario ok benissimo ora la prima piega è così facciamo la stessa cosa dall'altra parte ok dopodiché giriamo e facciamo le pieghe nel senso opposto e fin qui ci eravamo arrivati anche prima adesso vediamo se mi ricordo come andare avanti perché prima ho sbagliato il passaggio che non ho piegato due volte il il foglio in un senso e nell'altro ora dovrebbe essere giusto si prende questo pezzo e lo si mette verso l'alto vediamo se viene questa è la parte più difficile di questi fantasmini eccolo qua vedete in questo modo se vi siete persi il passaggio vediamo di riuscire a replicarlo da questa parte quindi questo qua che è molto importante che ci sia quindi si piega così ok perfetto questa volta ce l'abbiamo fatta ok ringrazio mariangela che mi ha scritto che le piace molto quello che stiamo facendo ok quindi siamo a questo punto che era il pezzo dove mi sono fermata prima allora si gira quindi con le braccia di là e si va a fare un'altra piega una in questo senso e una nell'altro senso ecco qua ok e questo come potete vedere è già la base del nostro fantasma che vi ricordo questo è quello che stiamo facendo allora queste si piegano in avanti si crea la testa piegandola all'indietro e qui potete creare un po la forma che volete se lo volete più allungato meno allungato come preferite e ora non resta che fare la coda che sarà piegata in un per un pezzo così verso l'alto e poi un pezzettino verso il basso anche in questo caso allora il nostro fantasma tiene bene tutte le pieghe ma vi consiglio di utilizzare un pezzettino di nastro adesivo così riuscite a tenere tutto perfettamente fermo perfetto ora che il corpo del nostro fantasmino è fatto non ci resta che decorarlo potete farlo più o meno pauroso anche uno pauroso che non so più dove andate a finire quando lo trovo ve lo faccio vedere non c'è più a sparire eccolo qua allora questo è quello con il viso un po più pauroso questo invece è quello più diciamo con il viso un po più dolce ringrazio nel frattempo anche Elida e Laura che mi stanno ringraziando per le belle idee grazie a voi che mi seguite allora ma a me piace di più il viso un po più dolce quindi vado a creare gli occhi anche qui semplicissimo la bocca e con il pennarello rosa faccio le guance così perfetto ecco qua ce l'abbiamo fatta fare anche il nostro fantasmino vi faccio rivedere brevemente quello che abbiamo fatto quindi abbiamo creato il cappello della strega versione verde e gialla e anche viola e se volete crearlo più grande potete usare ad esempio un foglio a quattro colorato poi abbiamo creato il nostro segnalibro a forma di pipistrello ecco qua vedete com'è simpatico e pratico da utilizzare e poi abbiamo fatto il nostro fantasmino quindi queste sono tre idee molto molto semplici per creare degli origami a tema halloween se il video vi è piaciuto ricordatevi di condividerlo e di seguirmi su facebook su instagram su youtube iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti e infine ma non da meno mi trovate anche su pinterest quindi se vi piace continuate a seguirmi alla prossima ciao a tutti e grazie a presto